Buongiorno a tutti e bentrovati in questo nuovissimo video dove parleremo stavolta di studi vari, studi delle civiltà. Sapete, ce ne sono tantissime e ancora dobbiamo scoprire un sacco di cose. Perché? Perché nella vita non si smette mai di imparare ed è proprio così. Ce lo fanno capire gli scienziati, ce lo fanno capire i vari studi che vengono fatte su queste civiltà, come ad esempio, come in questo video, dove parleremo della civiltà egizia, che è stata molto lungimirante, è stata all'avanguardia non soltanto nell'architettura in generale, ma anche nelle scienze. Pensate che fu un popolo decisamente geniale, che seppe insediarsi in uno dei luoghi più prosperi e favorevoli all'agricoltura. Beh, bella furbata, no? Quali sono quindi gli aspetti che vanno a incuriosire i ricercatori che riescono ancora a scoprire delle cose? Senza alcun dubbio ci sono ancora le domande senza una vera e propria risposta. La loro è una storia ricca di misteri e segreti, di riti, rituali e cose così, tutta gravitata intorno alla figura istrionica del faraone, no? Il faraone che era il capo di tutto. Ma i rinvenimenti più importanti riguardano proprio i faraoni. La loro sepoltura è cosa si nascondesse dietro quella particolare cura e dovizia in particolare. Ma non è tutto, perché oggi sveleremo quelli che sono i segreti di una delle scoperte più significative dello scorso anno. Sto parlando della città d'oro e del lavoro condotto dal famoso egittologo, cioè il dottore Zahi Hawass, che se ne intende quindi, no? Massimo esponente, tra l'altro, della cultura egizia in tutto il mondo. Le origini della città sono molto antiche, come possiamo immaginare, e risalgono al regno di Amenhotep III. Come spesso accade, la scoperta è avvenuta per puro caso, in quanto l'egittologo e il suo team erano tranquillamente alla ricerca della tomba di Tutankhamon. Ma perché viene identificata con questo nome? Deve questo nome al suo periodo di costruzione, ovvero l'età d'oro d'Egitto. E da tutto questo, da tutti questi studi, da tutti questi scavi, sono uscite fuori numerose iscrizioni e moltissimi monili. Ma non è tutto, perché oltre agli oggetti sono state rinvenute proprio delle aree ben organizzate. Una zona era destinata al cibo, ad esempio. Individuata, infatti, una sorta di panetteria con stoviglie di varia natura. Eh, si davano da fare anche loro, in cucina, insomma, per quel che potevano fare. Non poco distanti, trovati anche alcuni laboratori artigianali ed un cimitero vero e proprio. Insomma, la magnificenza della scoperta e lo stato di conservazione hanno consentito al dottor Zahi Hawass di entrare premiato con un importante riconoscimento, cioè l'Archeological Discovery Howard, che è come vincere il premio Nobel, praticamente. Cioè, nel senso, è una cosa importante. E questo è tutto per quanto riguarda questa scoperta. Vi ringrazio per l'ascolto. Noi, come sempre, ci sentiremo alla prossima notizia utile, sempre su Pausa Caffè.